Oggi ci troviamo sull'altipiano di Lavarone, esattamente località Bertoldi. Andiamo a fare una passeggiata fino ad arrivare al Drago di Vaia. Adesso dalla località Bertoldi seguiamo questa strada fino ad arrivare in località Schlagenaufi. Siamo arrivati alla località Schlagenaufi e andiamo a vedere un cimitero austriaco. Siamo arrivati al cimitero di Schlagenaufi. Questo cimitero è sorto vicino al luogo dove si trovavano ospedali da campo ostrungarico durante la prima guerra mondiale. Qui riposano ben 748 soldati. Dopo aver visitato il cimitero proseguiamo verso la Tana Incantata. Siamo arrivati alla Tana Incantata. Il posto è molto frequentato perché qui si trova la stazione a monte di un'asseggiovia. Lasciamo lo chalet Tana Incantata e proseguiamo il nostro cammino verso il Drago di Vaia. Siamo arrivati al Drago Alato di Magrè realizzato dall'artista del legno di fama mondiale Marco Martalar. Come potete vedere la scultura del dragone è un'opera straordinaria, molto bella, lungo 7 metri, alto 6 ed è interamente realizzato con il legname di scarto delle foreste abbattute durante la tempesta Vaia del 2018. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Abbandoniamo il Drago. Rientriamo al parcheggio però non facciamo lo stesso percorso dell'andata ma passiamo dallo chalet Cimone. Per salire allo chalet Cimone seguiamo l'impianto dell'asseggiovia. Abbiamo raggiunto lo chalet Cimone e adesso non rimane altro che rientrare al parcheggio in località Bertoldi. Siamo ritornati in località Bertoldi e siamo giunti alla chiusura di questa nostra passeggiata. La camminata che abbiamo fatto è stata bella, facile, può essere intrapresa da chiunque e la consigliamo soprattutto ai bambini perché sicuramente rimarranno incantati davanti al dragone e c'è pure un bellissimo prato dove poter giocare. Se oltre a vedere il Drago volete aggiungerci una tranquilla camminata nel bosco il giro che abbiamo fatto oggi è quello che fa per voi. Questo itinerario può essere fatto in qualsiasi stagione, se lo fate in inverno mi raccomando portatevi i ramponcini perché ci sono parecchi tratti ghiacciati. La salita allo chalet Cimone fatela soltanto se avete intenzione di farvi una pausa e bervi qualcosa, altrimenti è meglio continuare. Vi consigliamo inoltre di andare a vedere il Drago, possibilmente non nei giorni festivi perché il posto è veramente molto frequentato. Come sempre vi salutiamo e vi diamo appuntamento alla prossima! Grazie a tutti! Grazie a tutti!